ci divertivamo a raccogliere nei prati limitrofi alla scuola e vicine a casa dei bruchi che poi portavamo in classe e cercavamo di fare tutto il processo della trasformazione da bruco a farfalla Questa passione mi ha avvicinato così alla fotografia perché ho sentito veramente la necessità di voler scoprire questo mondo affascinante e curioso Grazie a tutti Daniele dici due parole su di te Mi chiamo Rossi Daniele ho 45 anni e abito a Bagnolo una piccola frazione del comune di Montemurlo nella provincia di Prato Nella vita mi occupo di progettazione meccanica Faccio il progettista presso un'azienda meccanotessile che fa robotica e automazione industriale Sono da sempre appassionato di fotografia e in special modo sono un grande appassionato di microcosmo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Poi c'è la macrofotografia che è la mia vera e grande passione Questa mi genera sensazioni particolari e grandissime emozioni Perché ti permette di stare a stretto contatto con le piccole creature che abitano nei nostri prati La macrofotografia è rispetto per la natura, quello sempre Se non abbiamo rispetto per la natura non possiamo fare macrofotografia Infatti fin da bambino ho avuto questa grande passione per le farfalle e per tutto il microcosmo E dal 2008 questa curiosità di vedere questi insetti più da vicino mi ha avvicinato alla fotografia È un tipo di fotografia che non la si può fare per 12 mesi all'anno proprio per via delle stagioni Di solito iniziamo a primavera a fare i primi scatti per terminare anche in autunno Togliendo ovviamente i mesi più caldi quando la mattina in pratica è troppo caldo E quindi non ci sono le condizioni ideali per scattare All'inizio quando ho cominciato l'entusiasmo e l'adrenalina mi permetteva di voler uscire sempre Di andare sempre a fare foto, anche due o tre volte alla settimana Delle volte andavo a fare foto e poi andavo in ufficio, un bel sacrificio era Però l'ho fatto talmente con tanto entusiasmo che non mi pesava nemmeno E poi vedevo anche un po' dei risultati Oggi ovviamente a distanza di anni dedico un po' meno tempo Dedico qualche weekend e esco quando ne sento veramente bisogno Di stare a stretto contatto con queste piccole creature E anche stare quelle due o tre ore immerso nella natura Cosa ti torna alla memoria guardando questa foto? Questa è mia Questa è il papilio macaon Chiamato comunemente macaone È una farfalla comunissima per i nostri prati È la farfalla La farfalla Perché questa farfalla la vediamo comunemente volare nei nostri prati, nelle piante di lilla In qualsiasi fiore vicino casa È una farfalla comune e infatti è molto fotografata Anche se non è semplicissimo poi trovarla Però di questa farfalla possiamo fare anche una specie di piccolo allevamento come l'ho fatto anch'io Ovvero andare a prendere i bruchetti del papilio macaon Che si trovano sulle ombrellifere, sulle piante di finocchio selvatico, sul prezzemolo in un orto Prendiamo questi bruchetti Li portiamo a casa con tutto il rispetto, sempre Li mettiamo in una tecara areata E gli diamo da mangiare tutti i giorni, finocchio fresco Fino a che non decide di diventare crisalide Poi se avremo la fortuna di vedere nascere la farfalla Difficile Una volta nata la farfalla possiamo osservare da vicino e poi la mettiamo in libertà E sono molto affezionato a questa foto Anche se ne ho fotografate tantissime di papilio macaon In svariate forme, in svariate scene Però questa foto, come tante altre, mi ricorda un racconto Mi ricorda una storia Perché è stata una bella mattinata di macro, molto prolifica Stavo rimettendo tutta l'attrezzatura perché stava già arrivando il sole E le temperature si erano scaldate E praticamente vicino al mio zaino, a pochi metri di distanza da me Mi giro e la vedo lì su un bel fiore In questa posizione con le ali aperte Che si stava riscaldando e riattivando A quel punto mi è entrata un po' di ansia adrenalina Quella sana adrenalina perché volevo cogliere il momento Volevo riportare lo scatto Anche se non era di primaria importanza Però era una cosa nata così dal niente E quindi mi sono un attimino concentrato E ho studiato brevemente, molto brevemente La situazione E ho deciso un'inquadratura un po' particolare Con il cavalletto e con la mia macchina fotografica E sono riuscito a filtrare un attimo la luce Con quello che avevo a disposizione E ho fatto uno scatto, uno unico E quindi questo per me è un documento importante Che racconta una storia Al momento che ho riguardato lo scatto in macchina Mi piaceva Dopodiché la farfalla è volata via È stato un segnale Magari ha deciso di concedersi per un attimo E poi se n'è andata Come ti sei avvicinato alla fotografia e dal microcosmo? Ho iniziato un bel po' di anni fa Perché la mia passione per le farfalle In special modo, più che per gli insetti Per le farfalle Nasce dalla scuola elementare Beh sì, dagli anni Ottanta Ho trovato una maestra che praticamente Anche lei era appassionata alle farfalle Quindi abitando in un paese vicino alla campagna Andavamo a cercare i bruchi Per poi portarli in classe Per ricreare tutto il processo di nascita della farfalla Quindi questa passione per gli insetti È stata fin da piccolo abbastanza importante E con la curiosità poi Di scoprire questo mondo affascinante Mi sono avvicinato poi alla fotografia All'inizio non è stato un periodo semplicissimo Perché non riuscivo a capire bene Quello che dovevo fare Facevo le uscite nel mezzo della mattina Senza riportare praticamente niente a casa Quindi ho deciso un attimino Di capire Quello che dovevo andare a fare C'è stato un periodo particolare Dove mi documentavo molto E da buon testardo Ho guardato avanti Avevo in testa la mia idea di macro Che non era la macro che vedevo sul web Ma era una macro che avesse un forte legame Con la natura Credo davvero che ci siano cose Che nessuno riesce a vedere Prima che vengano fotografate Questa frase di Diane Arbus Mi è rimasta impressa Perché io la legavo molto Al mio tipo di fotografia Alla fotografia macro Anche se lei Da grandissima fotografa Non c'entrava niente con la macro E quindi me la sto portando Con me Come bagaglio Perché veramente Senza il mezzo fotografico Non possiamo vedere Tutti quei dettagli nascosti Che ci offre il mondo degli insetti Quali sono le zone dove vai a fotografare? Le zone dove preferisco fotografare Fortunatamente sono molto vicine a casa Io ho la fortuna di vivere In questo paese Che è in campagna A due passi Dall'area protetta del Monteferrato Praticamente In cinque minuti di macchina Riusciamo a trovare delle zone Incontaminate Dalle macchine Dalle auto E dalle aziende Questo è stata una grande fortuna per me Infatti Durante il periodo Che dovevo capire anche Quello che mi sarebbe Piaciuto fare Nel corso degli anni Ho fatto tante camminate Tante ricognizioni Per capire Quali zone Erano adatte Per fotografare Alcuni tipi di insetti O altri Poi nel corso degli anni L'esperienza Mi ha portato anche a capire Il tipo di vegetazione E il tipo di piante Nutrici Che Dovevo trovare Per fotografare Determinate farfalle Ricordo che Ho anche esteso un po' Il mio territorio Lo chiamo mio Perché me lo sento proprio Me lo sento proprio mio Restando comunque A pochi chilometri da casa Una mezz'ora di macchina Ho scoperto Ad esempio Dei bellissimi terreni paludosi E molto umidi Dove Nei mesi di settembre-ottobre Fotografiamo Delle libellule splendide Oltre a Conoscere I miei territori E a Conoscere un po' Le zone limitrofe Ho avuto anche L'opportunità Di fare Delle uscite Fuori dalla Toscana Con persone Che avevano La mia stessa passione Ci siamo ritrovati Due o tre volte Nel corso di questi anni Una volta Sono andato su In Veneto Dove Abbiamo fotografato Tante belle Libellule Che non troviamo Qui in Toscana Poi un'altra volta Sono stato Nel Lazio Dove ho fotografato L'Empusa Pennata Che è Una specie di mantide Che però Si trova solamente Nelle regioni Con un clima più mediterraneo Ecco Quella è veramente È stata Un'esperienza Fuori porta Veramente bellissima Perché Vedendo le foto Sul web Mi immaginavo Questo insetto Grande Non lo so come mai Ma lo immaginavo Abbastanza grande In realtà È un insetto Piccolissimo Però Ha dei Dei dettagli E delle E delle Forme Veramente Veramente Bellissime Sei molto legato Al tuo territorio Assolutamente Sì Assolutamente Sì Fotografare Dove Dove hai Le tue radici Le tue radici Dici È bello Ma è anche gratificante Questo perché Ho avuto Di persona La percezione Nel vedere Gli occhi Di alcune persone Mentre Mentre osservavano Le mie foto Ho avuto La fortuna Di organizzare Delle mostre Poco vicino Poco distante Da casa Nell'area protetta Del Monteferrato In questo Ambiente Bellissimo E Praticamente Le persone Del territorio Lì Del paese Sono venute A vedere Le mie foto E pensavano Che queste foto Le avessi fatte In Italia In Europa O anche Nelle zone Più nascoste Del mondo E Quando io Gli ho detto Che praticamente Tutte queste foto Le avevo fatte A pochi chilometri Di distanza Da dove Eravamo Lì Le persone Erano veramente Incredule Perché Vedendo Degli insetti Particolari Strani Alcuni Minuscoli Non sapevano Neanche L'esistenza In realtà Potevano Calpestarli Durante una camminata In un prato Lì vicino Conosciamoci meglio Iniziamo dai tuoi difetti Difetti Tantissimi Tantissimi Ne ho Però Dal Dai difetti Ho un pregio È quello di Cercare di Farli diventare Utili nella vita Sono un testardo Uno scorpione Testardo Ma Testardo Però C'è da dire Che questa mia Testardaggine Mi è servita Perché se non ero Testardo Magari Avevo abbandonato L'amaro Nel 2008 E invece Ho guardato avanti Oltre a questo Non so se può essere un difetto Un pregio Sono Preciso E pignolo Forse troppo Troppo preciso E troppo pignolo Talvolta Voglio che Tutto sia Perfetto Quando Non servirebbe Tutta questa Perfezione Un po' Sono legato anche al lavoro Per il lavoro che faccio Che comunque È un lavoro che Devo essere Preciso E quindi magari Questa cosa qui Me la porto Me la porto Addosso E È anche difficile Da plasmare A livello caratteriale Sono un generoso Sono molto generoso Anche se Di primo impatto Ho un po' il ghigno Sembro un po' burbero Ma forse perché Devo un pochino Capire la situazione Una volta capita La situazione Sono un libro aperto E Anche qui Posso legare Questa cosa Alla macro Perché Quando vado sul campo Devo capire la situazione Nei primi minuti Chi è con me Mi deve Lasciare Far lavorare il cervello Poi dopo Iniziamo Un grande pregio Ecco Questo sì La pazienza Cosa che magari In questo mondo Un po' Ha variato Come senti dire Una volta In un aereo Da un hostess Perché C'erano persone Poco pazienti La pazienza È una cosa Che mi porto Insieme a me Come se fosse Un bagaglio E mi serve Tanto in macro Non solo in macro Ma In macro Fotografia Mi serve tanto Qual è il senso Che cerchi Quando fotografi? Fotografo Per suscitare In me stesso Sensazioni E tante emozioni A stare A contatto Con la natura Oltre a questo Per me È anche Rigenerarsi Dallo stress Quotidiano Per me La natura È veramente Una grande Boccata di ossigeno Oltre a questo La macro Fotografia È anche Documentare Documentare Il ritrovamento Di una farfalla Diversa dalle altre Di una farfalla Nuova Che non avevi mai Fotografato Poi Oltre al documento Fotografico C'è La scoperta Questa È una sensazione Bellissima Perché Quando siamo Lì sul campo Riusciamo a scoprire Tutte le volte Dei dettagli nuovi Impercettibili Ma non guardando Dall'obiettivo Dalla macchina fotografica Guardando Veramente L'insetto La farfalla O la libellula Con l'occhio umano Avvicinandosi Veramente A questi Piccoli Piccole creature E notando Dei dettagli Bellissimi Chi l'avrebbe mai creduto Che una farfalla Fosse piena di peli Nessuno E la macrofotografia È questa Tutte le volte Scopriamo Delle cose Diverse E queste cose Qui sono Gratificanti Una sessione Macrofotografica È Bellissima E gratificante Anche per altri Motivi Almeno per me Ovvero Assaporare È il risveglio Della natura Perché Quando sei lì Tutta la natura Intorno Si risveglia Dalla notte E Non è sempre Facile Fotografare Gli insetti Cioè Ci sono delle mattine Che praticamente Non si fotografa Niente Per vari motivi Però Per me è bello Lo stesso È proprio bello Lo stesso Perché Stare lì Quelle due ore È una sensazione È difficile Da spiegare Bisognerebbe Provarla Quello sì Io vorrei Mostrare Al mondo La bellezza Delle piccole cose Apparentemente invisibili Penso In un qualche modo Di riuscirci Perché Nessuno di noi Ha visto Una farfalla Da vicino Se non Vole Vederla volare Da un fione A un altro E tramite Le mie foto Forse qualcosa Si riesce A vedere Ogni Mio scatto Racconta Anche una Una storia Io Quando Vado a vedere Anche gli scatti Vecchi Che ho fatto Mi ricordo Tanti aneddoti Di quel momento Mi ricordo Tante situazioni Ogni scatto Mi ricordo Dove l'ho fatto Eppure In dieci anni Di macro Un po' di scatti Gli ho fatti Penso sia Veramente Un atto D'amore Per la natura N'è un qualcosa Di unico Per me Pensi Che il tuo Territorio Abbia bisogno Di protezione? Penso questo Perché Conosco Molto bene Il mio Territorio E le mie Zone I miei Terreni Che Sono vicino Casa Ho visto Dei grandi Cambiamenti Mi ricordo Ricordi Di Insomma Un po' di anni fa Negli anni 80 Quando ero Quando ero Bambino I prati erano Completamente Pieni di farfalle Trovavamo Le manti Di Ma Tantissimi Tantissimi Insetti Trovavamo Libellule Farfalle Bruchi Di ogni genere Negli anni La cosa È cambiata Perché Quando io Mi sono Riapprocciato In questi In questi Territori Per iniziare A fare Macro Non era Più così Anche se Poi Dal 2008 Ad oggi La cosa È notevolmente Ricambiata Questo Secondo me Per Un fatto Anche Climatico Perché Le stagioni Sono cambiate La primavera Non è più primavera Ci sono Delle settimane Di caldo torrido In mesi Sbagliati E quindi Sicuramente Anche gli insetti E i loro habitat Ne risentono Ci sono Tantissime piogge Delle volte E quindi Rallentano Magari La crescita Della vegetazione E anche Ci sono Dei Cambi Di Temperature Troppo Veloci Questo Cambiamento Climatico Sicuramente È Diaggravante Anche Sul ritrovamento Degli insetti Che è un po' Cambiato La tua fotografia Può fare qualcosa Per l'ambiente? La fotografia Principalmente Per l'ambiente È documento E quindi Le persone Dovrebbero Percepire Questa parola Come Un input Ovvero Le persone Passeggiano In mezzo alla natura Però Non si soffermano E magari La macrofotografia Potrebbe stimolare A soffermarsi E magari Cercare Anche Di poter Vedere Con i propri occhi Qualcosa Sarebbe Veramente Bello Documentare La bellezza Del microcosmo Facendo Capire Un pochino Questa bellezza Alle persone Anche Sarebbe Bello Anche Far vedere Il come Ci si approccia Alla natura Della macrofotografia Alle persone E ovviamente Devono essere Appassionati di natura Ma sono Convinto Che anche Chi non è Un grande Appassionato Di natura Approcciarsi Tramite La fotografia A questi Piccoli Insetti Potrebbe Potrebbe Essere Una bella Cosa Chissà Se schioccando Le dita Potessi Trovarti A cena Con qualcuno Beh Voglio Fantasticare Un po' Cenerei Con una bella Bottiglia di vino Con me stesso Con Daniele Rossi Questo perché Fantasticando Mi vorrei Complimentare Con lui Perché Ha iniziato Da principiante Ha iniziato Da solo Senza chiedere Senza farsi Aiutare Da nessuno Ha creduto Chiamiamolo Un sogno Nel cassetto Sì Si può chiamare Sogno Nel cassetto Di voler Riuscire Ad avvicinarsi Al mondo Degli insetti Vederli Più da vicino Aver stretto Un po' Un legame Con loro Riuscire A documentarli E mi vorrei Veramente Complimentare Con lui Perché Comunque Mostra Le persone Quello Che l'occhio umano Non riesce a vedere Anche per la sua Caparbietà Perché Comunque In tutti questi anni Di macrofotografia È riuscito A fare dei cambiamenti Nelle sue macro È riuscito Con umiltà E con la Voglia di imparare A creare Una foto macro Diversa Ultimamente Anche un po' Più artistica Si può dire E poi Mi garberebbe Davanti a questa scena Farmi raccontare Un po' Quei tanti racconti Che ha in testa E che ha Dei ricordi Delle sue uscite macro E ce ne sono Veramente tanti Un po' Di tecnica Il momento migliore Per immortalare Il microcosmo? Gli scatti Che ho fatto In questi Dieci Dovici anni Di macro Li ho fatti Sempre all'alba Questo perché Ci sono le condizioni Giuste Perché proveniamo Dalle temperature Fresche della notte E quindi Gli insetti Durante la notte Che cercano riposo In un fiore In uno stelo d'erba Rimangono immobili Per queste Temperature Più fresche Quindi Se noi ci approcciamo Al mattino Appena Sorge il sole Troviamo Questi insetti Queste farfalle Praticamente Immobili E quindi È tutto facile Apparentemente Perché Apparentemente? Perché Ci sono Poche ore di luce Perché la luce È una luce tenue E quindi Bisogna Saper gestire Molto bene La situazione Questo Con l'esperienza E perché Ci vuole Tanta pazienza Gli insetti Possono essere Molto elusivi E però Purtroppo La natura Li ha progettati così Bisogna avere Un occhio Ben allenato E bisogna Capire Dove Si posano Durante Diciamo Il loro riposo Notturno Non è semplice Vederli Io ho una Tecnica Tutta mia Per Per fare Questo Ritrovamento Al mattino Però È Una tecnica Che negli anni Ho affinato A volte Capita Anche Di Fare Delle Ricognizioni La sera Prima Ovviamente Se il tempo Lo permette Perché Praticamente Se noi Al tramonto Troviamo Delle farfalle Posate su Dei fiori Queste Hanno già Trovato Il loro Posto Sicuro Per passare La notte E state Pur certi Che se Al mattino Dopo Ritorniamo In quel punto Preciso La farfalla È lì A aspettare Aspettare Noi Quali sono Le difficoltà Nel fare Macro In natura Ci sono Tante Difficoltà Innanzitutto Quando Facciamo Macrofotografia Tutto deve Essere Immobile E Questo Lo possiamo Ottenere All'alba Ho provato Anche a fare Delle foto Al tramonto Però Le condizioni Sia di luce Di questa Immobilità Dell'insetto Non c'è Perché All'alba Si proviene Dalla notte Mentre Al tramonto Diciamo C'è tutta la giornata Alle spalle Ovviamente Salvo Imprevisti Perché Non è che Se un insetto È immobile Noi possiamo Fare tutto Quello Che vogliamo Ad esempio Le farfalle Sono insetti Che Si fanno Avvicinare Tranquillamente Mentre Le libellule Sono un po' Più furbette Perché Praticamente Percepiscono Molto La presenza Umana Non è che Vanno via Però Hanno Diciamo Nelle Nelle Sopra gli occhi Delle piccole Antenne Che sono Come dei radar E a volte Quando ti avvicini O sei lì Per scattare Loro Che cosa fanno Si spostano Anche di poco Però Lo scatto Non lo puoi fare Quindi ci vuole Pazienza Tantissima E poi ci vuole Anche rispetto Non è che si può Non aver rispetto Per Per le nostre modelle E quindi Dobbiamo Dobbiamo avere pazienza E dobbiamo avere Rispetto per la natura Perché Perché La natura È bellissima E quindi Dobbiamo Pazientare E cogliere Il momento giusto Poi c'è Il nemico Principale Della macrofotografia Che è il vento Quando c'è vento Anche lieve La brezza Del mattino Quando Arriva Diciamo Il sole Che sta uscendo Fuori Magari Dalla montagna Si alza Sempre un po' Il vento E quindi Non ti permette Di fotografare Le condizioni Di luce Sono importantissime Infatti Quando il sole Illumina la scena Difficilmente Poi Si possono Da lì Avvenire Fare Fare altre foto Perché Il sole Illumina Troppo La zona E quindi La luce Non è quella giusta Cerco infatti Di Trovare Terreni Dove il sole Tarda a arrivare Ad esempio Dei prati Vicino a delle montagne In modo tale Che ci siano Piore Con questa luce Tenue Quando ovviamente Il sole arriva Inizia la fase Di rimettere Tutto a posto Però questo Secondo me È comunque Un momento bellissimo Proprio per l'amore Per la natura Perché Possiamo Vedere Quando Gli insetti Si riattivano In questi casi O ci godiamo Il momento Con l'occhio umano Oppure In alcuni casi Proviamo a documentarlo Con un video Magari Oppure Cerco Qualche scatto Difficile Molto difficile Quando magari Una farfalla Riesce Ad aprire le ali Però Bisogna essere Capaci Bisogna essere Attenti Bisogna essere Furbi E cogliere Il momento Più di ogni Altra Occasione Io ho avuto Anche la fortuna Di fare Alcune foto Con le farfalle Ali aperte E si riesce A vedere La bellezza Ancor più Bella Di una farfalla Perché Quando una farfalla È ferma Fotografiamo La parte Più brutta Delle ali Mentre Lo splendore È quando È ali aperte Che attrezzatura Usi Quali accessori Ritieni indispensabili Ci sono Varie Attrezzature Da poter Utilizzare Inizialmente Ho iniziato Con una reflex Con un obiettivo Che non era neanche Un obiettivo macro E con un treppiede Il problema Non era L'attrezzatura Gli sbagliavo Proprio I momenti Per andare A fotografare Infatti Non ho ottenuto In pratica Niente Per due anni Poi Ho un po' studiato E ho capito Il contesto Di quello Che dovevo fare E Ho ottenuto I primi risultati Anche con Un'attrezzatura Abbastanza scarsa Quindi La passione Mi ha portato A fare Degli acquisti Importanti Fino ad avere Un'attrezzatura Professionale Quindi Una Buona reflex Un buon Se non Ottimo Obiettivo macro E un bel treppiede Poi ho deciso Di fare Uno step In più Perché come Tutte le cose Bisogna sempre Migliorarsi Quindi ho comprato Una slitta micrometrica E ho notato subito La differenza Dei miei scatti Erano scatti Migliori Migliori Proprio tecnicamente Perché questo Perché Con una slitta Micrometrica Andiamo a fare Una messa a fuoco Non più Girando la ghiera Dell'obiettivo Ma praticamente Ma praticamente Muovendo un pomello Sulla ghiera Che muove Tutto il gruppo Macchina fotografica Obiettivo Quindi il movimento Di questa Di questa manopola È un movimento Molto più preciso E effettivamente Lo si è visto subito Oltre a questa attrezzatura C'è un elemento fondamentale C'è un elemento fondamentale La luce La luce La luce è fondamentale Fondamentale Perché se non ci sono Le condizioni di luce giuste La foto può essere Bella quanto ti pare Però a me non piace Sono un po' fissato Su questa luce Ecco Però ho trovato Un modo Per poter Senza l'utilizzo Di luci artificiali Filtrare la luce Anche se non si è Direttamente All'esposizione del sole Però la luce Passa Dopo averla filtrata Cerco di Ridare Al soggetto La luce Con dei pannellini Per diciamo Schiarire le ombre E Tutto questo Kit Fotografico L'ho Formato Negli anni Non subito Comprando E spendendo Nella migliore Attrezzatura Piano piano Mettendo Via Dei soldi Sono riuscito Un pochino Ad avere Un'attrezzatura Top Infatti Ho avuto L'opportunità Anche di relazionare Con delle persone Che hanno fatto Dei workshop Con me E Gli ho consigliati Di non buttare via I soldi Ma innanzitutto Di capire Se questa Passione È veramente Passione O se non è Una passione Che dura Qualche mese E non di più Quindi Andare cauti Con le spese Magari Capire Se veramente La macro Fotografia È una passione Come Come la mia Perché ci vuole Oltre all'attrezzatura Due elementi fondamentali La dedizione Per quello Che andiamo a fare È un grande sacrificio Perché Le sveglie Il sabato E la domenica Talvolta Sono alle 4 Alle 4 e mezzo E quindi Il sacrificio È alla base Di tutto Cosa non si dovrebbe Mai fare Fotografando Il microcosmo Cosa non si deve fare Bella domanda Innanzitutto Come ho Già ripetuto Varie volte Il concetto È rispettare La natura Punto Bisognerebbe Che questa domanda Finisse qui Invece Purtroppo Si vedono Delle cose Un po' Antipatiche Personalmente Bisogna avere Un approccio Giusto Dall'inizio Da quando si posa L'attrezzatura Sul campo Avere Un giusto Approccio Con l'area E un giusto Approccio Con il ritrovamento Degli insetti Anche perché La natura Ti dà la possibilità Di fotografare In condizioni Di Di assoluta Libertà In quelle ore lì Ci sono Delle mattine Ad esempio Talmente Umide Che gli insetti Sono totalmente Ricoperti Di rugiada Una cosa Bellissima Da vedere All'occhio Nudo E anche Da fotografare Magari La rugiada A livello Tecnico Crea Ha delle difficoltà Nella messa A fuoco Però È veramente Spettacolare E ho visto Si sente Si sente Dire Che le persone Congelano Ad esempio Gli insetti Per fotografarli Immobili Basta Svegliarsi Presto Sono già Congelati Di suo Non c'è Non c'è Trucchi È solamente Una cosa Bellissima Da vedere E talvolta Mi è capitato Delle cose Molto strane Però purtroppo Mi sono Capitate Anche a me Vai In dei terreni Molto umidi Dove ci sono Decine e decine Di livelli Nel giro Di due metri quadri Se cammini Battendo Un po' più Forte Il piede In terra Succede Che queste Livellule Cadono Come foglie Secche Perché sono Talmente Fragili Talmente Intorpidite Dalla notte E talmente Ricoperte Di rugiada Che basta Veramente poco Che cadono A terra Quindi L'approccio Giusto È anche Riferito A questo Bisogna Avere chiara La situazione Di quello Che andiamo A fare Il resto È totalmente Un errore Grandissimo E mi fermo Qui Cosa ti aspetta Dopo questa sera? Ma È sicuramente Una chiamata Al National Geographic No Scherzi A parte Rimango Sempre Con la mia Umiltà E con i piedi Per terra Vorrei Continuare Ad ampliare Le mie Conoscenze E cercare Magari Di fotografare Quelle Specie Che ho lì Da una parte Come desiderio E che ancora Non ho fotografato Perché magari Mi manca Qualche informazione Sull'habitat O sulle piante Nutrici Ecco Questo Magari Può essere Uno stimolo Uno stimolo In più E in testa Ci sono Diversi progetti Alcuni A breve termine Alcuni Anche a lungo termine Vediamo Comunque È una Una bella ondata Di autostima Fare Diciamo Un'intervista Del genere E quindi Sono felice Per finire Saluto al nostro pubblico Innanzitutto Grazie a tutti A tutti voi A tutto il Fotolab Fotolupo Che mi ha dato L'opportunità Ancora una volta Di Di essere qui Dopo Questa Intervista Rispettate la natura Penso che Possiamo tutti Rispettare la natura Con un occhio di riguardo E se magari Vedete qualche farfalla In giro Boh Forse vi ricorderete di me Per queste cose Che vi ho detto E se davvero Le mie Foto E i miei racconti Avranno Suscitato in voi Anche Una piccola emozione Beh Allora Sono contento So di aver raggiunto Il mio scopo Un abbraccione a tutti 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 e questo si incavolò perché alla fine lei disse il mondo è proprio avariato proprio con la rabbia vuole i bicchieri di vino Alien l'hanno studiato sui movimenti dell'impusa pennata ma è così è una farina così cioè se te la vedi ti sembra praticamente grande un po' perché è bella ma è brutta e quindi a me mi dava l'impressione che fosse un qualcosa di grande in realtà quando te la trovi lì insomma ci rimani quasi male capito?